Berlusconi, il voto popolare non deve essere sovvertito da infiltrati nella magistratura che procedono contro di me con accuse false e risibili e a Veltroni, il responsabile dei disastri di Roma, non è un leader credibile. Veltroni all'attacco, stanno riportando il paese al passato, in autunno saremo in piazza per manifestare contro il governo, faremo un'opposizione intransigente. L'FBI inroppe a Wall Street per la crisi dei mutui, decine di arresti, società e manager accusati di frode, complotto e insider trading. Aggrappati alle gabbie per la pesca del tonno e tratti in salvo da un peschereccio italiano, le immagini del salvataggio dei naufraghi somali in fuga verso l'Europa. Domani comincia ufficialmente l'estate, i consigli del Ministero della Salute e per gli anziani i comuni varano i piani per assistenza in tempo libero. Incredibile ad imperia, un bagnino si allontana dal suo posto di lavoro e si fa sostituire da una bambola gonfiabile, multato di 1000 euro. Nervi tesi durante l'allenamento degli spagnoli, gli azzurri fanno paura, a casa Italia cresce l'ottimismo ma per i bookmakers sono favorite le furie rosse.